Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo, contesto di variabilità in Liguria per la giornata di giovedì con una maggiore nuvolosità sui settori centro-orientali, ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. In dettaglio diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'imperiese, attese condizioni di tempo stabile ed assolato con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 15-16 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Savonese, situazione molto simile, infatti al mattino non mancheranno ampi spazi assolati, tenderà poi ad annuvolarsi nella seconda parte del giorno con massime tra i 14 e i 16 gradi. Su Genova ed intorni, contesto asciutto ma per lo più nuvoloso fin dal mattino con massime fino ai 15-16 gradi. In dettaglio sul Tigulio, anche qui la nuvolosità sarà presente fin dalla mattinata con la possibilità di locali deboli, precipitazioni, temperature massime anche qui fino ai 15-16 gradi. E infine per quanto riguarda lo spezzino, anche qui attesa della variabilità con molte nubi e qualche isolato piovasco, massime non oltre i 15 gradi. Ci attiene una giornata di venerdì in Liguria caratterizzata da ampi spazi soleggiati ovunque, il tempo torna a migliorare ma i venti tenderanno a rinforzarsi con Mar Ligure fino a Mosso. Per tutti i dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo. Grazie. 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 Grazie.